san andrea kim nato nel 1821 da una nobile famiglia cristiana fu il primo sacerdote della corea il padre agostino per sfuggire alla persecuzione lasciò seul e si trasferì con tutta la famiglia tra i monti dedicandosi all'agricoltura la casa paterna divenne una vera chiesa domestica frequentata dai cristiani e da coloro che volevano essere battezzati nel 1836 entrò in contatto con i missionari giunti dalla francia e padre pietro mobant lo mandò a macao nel 1844 tornò in patria come diacono ma nel 1846 fu catturato rinchiuso e ucciso nel carcere di saul 103 martiri coreani sono stati canonizzati da giovanni paolo secondo a seul il 6 maggio 1984 ciao